Pensiamo a come rendere produttivo il passaggio che c'è stato ieri, che è stato un passaggio ovviamente sofferto per tanti di noi, però necessario perché nel merito la delega purtroppo non contrasta la precarietà. Oggi pensiamo a come possiamo migliorare un testo nei decreti attuativi, in altri provvedimenti, nella legge di stabilità per fare in modo che sostenga il lavoro e sostenga la ripresa.